Sette o otto cani di diverse taglie abbandonati e aggressivi lungo l'Arcene del Brenta. Dopo l'arresto di un gruppo di nomadi accusati di un'intensa attività di furti nel Vicentino, è emerso il problema di questi animali nell'area in località Giarabassa, sopra il luogo degli agenti della polizia locale, che hanno interpellato il proprietario chiedendogli di attivarsi, se necessario, attraverso il servizio veterinario dell'US.